Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, precisamente in zona Taranto 2, in via Scoglio del Tonno, ad una fermata dell'autobus dell'AMAT, i mezzi di trasporto pubblico cittadino. Ora comprendiamo le difficoltà di queste società partecipate, quale l'AMAT, però noi desidereremmo che venissero ressi servizi migliori al cittadino. Al di là, e di questo ne abbiamo parlato a Iosa, di una maggiore frequenza relativa al passaggio degli autobus e alla precisione del passaggio stesso, ma qui la cosa assurda è che in questa zona, a Taranto 2, le pensilline sono davvero scarsissime, si possono contare sulle punte delle dita. Teniamo presente che è un'arteria molto trafficata, che siamo nei pressi di scuole, c'è una nota clinica, e quindi immaginate il disagio di chi deve aspettare anche per mezz'ora l'autobus e non ha il minimo comfort, siamo un inglesismo, rappresentato da una pensillina. Pensate quando piove e pensate anche d'estate, quando in un certo qual modo ci si riparerebbe dal sole. E non pretendiamo le pensilline su marciapiedi particolarmente stretti e angosti, ma qui siamo nei pressi di una stazione di rifornimento di carburante, c'è un marciapiede molto ampio tale da consentire appunto l'installazione di una pensillina. Mi rivolgo al sindaco, mi rivolgo al presidente dell'AMAT Poggi, sforziamoci, realizziamo qualche pensillina in più. I cittadini pagano le tasse, pagano il biglietto e giustamente pretendono servizi.